Io seguendo un po' tutte le aziende che fanno l'accessorio metallico per la moda mi sto rendendo conto come esista un problema vero di gestione di tutta la filiera perché non è pensabile che ci sia sempre una corsa al ribasso che alla fine si risolve in un dumping sui lavoratori attraverso questi mezzi oppure attraverso altri mezzi contrattuali. Penso al sistema delle cooperative, penso a delle cooperative Fasulla ovviamente, penso a sistemi che non permettono di avere una concorrenza reale basata sulla qualità e basata invece soltanto sul prezzo. E sono le griff, tra l'altro, che poi troviamo in boutique a 5.000 euro a borsa, no? In parte anche sì, in parte ritengo che ci sia anche una pressione da parte della capofila a ridurre il prezzo, che è un atteggiamento che francamente mi spiego il giusto perché i margini ci sarebbero anche per garantire una sostenibilità di tutta la filiera invece si predilige atteggiamenti che vanno sul dumping tra lavoratori.